Visto che parliamo del tempo della fine, dell'intelligenza artificiale, Matteo dice Buongiorno fratello Giuseppe, cosa ne pensi dei QR code? Come si dice in italiano QR code? Ah non lo so io. Come si dice QR? Io sono italiano ma non è che sono intelligente. QR code in italiano, cioè il codice QR. Codice QR. Io un po' che manco dall'Italia. Si dirà codice QR, quello di quaderno. Questi codici QR sono praticamente dappertutto. Ho osservato come questi marchi tecnologici possano diventare in un futuro dei propri e veri codici di accesso per tutti i servizi. Fare la spesa, guidare un veicolo, pagare le bollette, eccetera. Ho notato i tre quadretti ai lati e sono dal mio punto di vista tre sei nascosti. Basta spostare il quadretto interno e si nota il sei, quindi. Per cui ho pochi dubbi ormai su questo simbolo che probabilmente sarà il marchio della bestia in preparazione all'anticristo. Cosa ne pensate? Potrebbe essere questo il marchio della bestia di Apocalisse? Senza quel marchio non si potrà né vendere né comprare. Dio ci benedica. E io ci benedico sul serio, perché adesso viene l'anticristo, anche se gli anticristi dicono di no. Il semplice fatto che gli anticristi dicono di no vuol dire che viene sul serio. Allora può essere questo il marchio? Ma guarda, caro Matteo, nessuno sa con certezza cosa sarà il marchio. Ma il punto, insomma, non è che il problema non è tanto come sarà. Qualsiasi cosa sia, credo che deve essere un chip, secondo me, ricevitore e trasmittente. Ma vogliamo sapere cosa sarà per poter evitarlo? Ma stai tranquillo che quando vengono lì e ti dicono dobbiamo metterti questa cosina sulla fronte o sulla mano destra, lo capirai. Capito? Quando sono arrivati con la siringata lo sapevi più o meno che qui gatta ci cova e diavolo ci cova. Si dice che, nell'Apocalisse dice che senza il marchio non si potrà né vendere né comprare. Appunto te l'accorgi, no? E questo QR code... Quando arriva una siringata che ti dice se non prendi questo siringozzo sulla fronte o sulla mano, non so come lo chiameranno, non puoi né vendere né comprare, ma devi proprio essere per non capire questo. E questo QR code, anche se vai per comprare un caffè, lo trovi lì pronto per essere scaneato per vedere il menu della caffetteria, vedi i prezzi, tutto. Quindi si usa tanto per vendere e comprare. Va bene, ma questo è un inizio, non è la fine. Quindi secondo me non può essere un timbro, a meno che questo coso non ha il potere di ricetrasmittore, che deve ricevere l'istruzione dell'anticristo affinché uno possa essere uno zombie e trasmettere informazioni di tutto quello che succede nel tuo corpo. Quindi non crede che metteranno sulla nostra pelle un timbro con il codice QR? No, no, non sarà un tatuaggio. Infatti l'Apocalisse 13 dice che la parola usata in Apocalisse 13, quelli che riceveranno il marchio, è una parola che vuol dire incisione, cioè dovrà essere dentro e sotto la pelle. Ok. Magari sarà una cosa progredita rispetto al microchip attuale, però sarà una... qualunque cosa sia dovrà essere un ricetrasmittente. Ok, ho capito, sì. D'accordo, perché deve ricevere informazioni dell'anticristo affinché la persona diventi uno zombie. Oh, quindi chi vuol diventare zombie non sarà difficile. Io spero che siamo svegli, che ci troviamo nel posto giusto, che non dobbiamo scappare in mutande, in pigiama, con le pantofole, con l'anticristo che ci corre dietro con il microchip. Voi cercate di prepararvi, non siete troppo addormentati, fratelli che ci seguite. Siete libero il cappuccino a Milano, gli arancini in Sicilia, la pizza con il formaggio, come si dice, la mozzarella a Napoli, Spaghetti alla Matriciana, è una città che si chiama Matrice, Spaghetti alla Matriciana. Cioè, cerchiamo di svegliarci, ragazzi. Non stiamo ad aspettare lì, io se non vedo il morto non ci credo. Io se non vedo i fuori nelle dita, nelle mani di Gesù, no, no, io non ci credo. E se sei così, sei già fregato in partenza. Ci siamo? Sì, però comunque questo codice QR sicuramente è un passo avanti nella tecnologia per poter controllare tutto con questi codici. Sì. Anche se tu dici che il marchio non sarà un timbro, ma qualcosa di più potente. Qualunque cosa sarà, deve essere un rischio trasmittente, secondo me, perché sennò come fa a essere sotto l'influenza del computer? Deve essere un Bluetooth. Bluetooth in italiano come si dice? Bluetooth. Non lo so. Si dice lo stesso. Uguale. Sì, Bluetooth. In inglese Bluetooth vuol dire un dente azzurro. E sarà qualcosa che... Bluetooth vuol dire... Non vuol dire dente azzurro. Bluetooth is true, yeah. Io non so che tipo di dente sarà. Bluetooth. Sarà una zanna del diavolo, di sicuro. Allora, va bene. Allora, lasciate perdere cosa sarà, cosa non sarà. Una cosa sicura. Saprete che è quello, perché non potrete comprare, non potete vendere. Paragonato alla siringata appena passata, quella lì sarà una zuccherina al paragone. Perché lì ci sarà la pena di morte. Pocalisse 13,15 dice appena di morte. Ecco, e allora basta. Se non c'è altre domande, io prendo fiato. Sì, non prendi fiato perché vado a un'altra domanda sempre sullo stesso soggetto, da parte di Giorgio. Figurati se Angela mi fa prendere fiato. No, 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 no. Fratelli, se qualcuno vuole fare un po' di evangelizzazione, qui c'è Angela. Venite, venite. No, no, evangelizzate lei, anche a distanza. Venite, venite, andiamo insieme a evangelizzare. Una domanda sul marchio della bestia da parte di Giorgio? Già, andiamo con Giorgio. Salve fratelli, grazie per aver risposto alla mia mail. Bill Gates ha un brevetto codice 060606 e ci dà il link patentscope.wipo.in Grazie.